Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Notte di bagordi e di atti vandalici ai danni del Ruggeri Motori Mariani, l'azienda che si occupa di nautica che ha sede lungo la bruciata Senigallia. Sabato sera una baby gang si è divertita a distruggere tutto quello che gli capitava sotto mano. Domenica mattina il titolare si è ritrovato uno scenario disarmante, il piazzale antistante era pieno di bottiglie rotte, cassette della posta presa a calci e colonnini antincendio con le manichette srotolate. Il titolare ha diffuso le immagini delle telecamere lanciando un appello affinché se qualcuno ha visto o riconosciuto qualcuno dei vandali possa farsi avanti. Dalle targhe delle auto dei giovani le forze dell'ordine dovrebbero risalire con facilità ad alcuni di loro. Chiedeva l'elemosina con le stampelle ma era ricercato per una serie di furti commessi nel territorio. È stato arrestato dalla polizia di Senigallia un trentenne romeno su cui pendeva un ordine di cattura dell'autorità giudiziaria di Ancona. È stato sorpreso a chiedere soldi come fosse un mendicante impossibilitato a camminare sulla statale. Doveva scontare quattro mesi di reclusione in carcere per dei furti commessi. Un bilancio definito da alcuni disastroso per la due giorni di triathlon a Senigallia che ha letteralmente messo sotto scacco la città. Sabato e domenica mezza città è stata letteralmente bloccata per via della gara che ha chiuso strade via e fermato alla circolazione per ore. Il percorso ha infatti monopolizzato mezzo centro storico, il lungomare nord, la zona nord della città nelle ore di traffico più intense. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia per recuperare tre cuccioli di capriolo finiti all'interno di una proprietà privata. Non riuscivano a trovare più la via per uscire mentre la mamma al di fuori li chiamava. La squadra dei pompieri ha preso i cuccioli che erano in ottimo stato di salute e li ha rilasciati all'esterno della proprietà per farli ricongiungere con la mamma. Era troppo stretta la carreggiata a causa lavori in corso e soste selvagge delle auto e così la signora alla guida di un'auto per schivare un'altra proveniente a forte velocità è finita contro un palo. L'incidente si è verificato alle 10.30 di sabato in via Castelfidardo a Senigallia. La signora al volante dell'auto incidentata ha riferito di essere stata costretta a sbandare per evitare un'altra vettura che procedeva a velocità elevata. La carreggiata poi era ulteriormente ristretta per via delle auto parcheggiate in sosta nonostante il divieto nel lato sud. Nella mattinata di venerdì il personale del commissariato di Senigallia coordinato dal vicequestore Agostino Licari è intervenuto per tre furti in appartamento ai Giardini Morandi. Nel corso delle attività di accertamento condotta in collaborazione con la polizia scientifica è emerso che erano state rotte le serrature strappate dalle porte. Una volta dentro i ladri hanno rubato diversi gioielli e alcune centinaia di euro in contanti. Durante le attività di controllo proprio in via Bovio gli agenti hanno notato due giovani donne che si spostavano da un palazzo all'altro. A quel punto gli agenti hanno fermato le donne che hanno affermato di recarsi al mare. Considerando l'abbigliamento ed effettuato l'accertamento sull'identità delle giovani entrambe sono state condotte in commissariato dove è stato accertato che una delle due era minorenne ed entrambi avevano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Durante il fine settimana il personale del commissariato di Senigallia con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Perugia, le unità cinofile e la polizia stradale è stato impegnato in mirati controlli di contrasto ai reati e all'uso di stupefacenti. Sono stati effettuati diversi posti di controllo sia sulla statale 16 che sul lungomare. Durante i controlli è stato rintracciato un cittadino romeno di 30 anni con precedenti per furti a cattonaggio su cui pendeva un ordine di cattura. Inoltre è stato effettuato un servizio di controllo mirato con i cinofili presso i giardini morandi. Durante l'attività è stato fermato un 45enne trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. L'uomo è stato segnalato in prefettura e la sostanza sequestrata. Coach Foglietti lo aveva detto non più tardi di una settimana fa. Abbiamo perso due pezzi da 90 ma lavoreremo per rimpiazzarli al meglio. Ed ecco arrivare, anzi tornare in bianco rosso, Andrea Maggiotto dopo una sola stagione a Porto Sant'Elpidio. Nativo di 100, classe 1988 ma pesarese di adozione, Maggiotto è al terzo capitolo con la maglia della pallacanestro Senigallia. Ed era l'ultima notizia da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.